Ciao che state per ascoltare e tutto il materiale tagliato dall'intervista con il Gedo, compreso il divertente test della macchina della verità a cui ha accettato di sottoporsi. Prima di lasciarvi all'extra content, rubo un istante per ringraziare tutte le aziende che ci hanno accompagnato in questa incredibile avventura. Different Factory, Moviment, Printing Solutions, SPM Sport e Trudy. Perfetto, adesso ci siamo, let's go! Grazie a tutti! Provocatorie, ma sempre divertenti e sempre in un contesto rispettoso, sia chiaro. Quindi adesso prendo questo caschettino, se te lo indossi, te lo metti su. Casa Max! E adesso andiamo alle domande. Bene, allora facciamo una prova, così vediamo se funziona. Ti faccio una domandina. Ti senti a tuo agio? Sì! No! Ok, bene, bene, dai, funziona. Funziona. Io dico sempre la verità, cos'era questo? Ti piace la velocità? Chiaro. Quindi hai rispettato i limiti a venire qua? Eh, non proprio, no, non proprio, però sono venuto tranquillo, no, non sono venuto giù a tuono perché sono partito con calma, avevo tutto il tempo. Ah, ok, va bene. Mentre da ragazzo eri un teppista? Ma più che teppista ero un po' un pierino, sai, che quando succedeva qualcosa, come anche adesso, insomma, veniva sempre da me a vedere, perché ero sempre in prima fila, mi piaceva mettermi in gioco e volevo provare le cose sempre più estreme. Più estreme, tipo scendere con la moto sulla pista di Bob. Esatto, esatto. Eh, cose del genere. Ragazzi, mi raccomando, non fatelo. Mi piace, mi piace. Eh, perché Gedo si è inventato di scendere con la pista, cioè con la moto sulla pista di Bob. Sì, beh, ce l'ho dietro a casa, lì tutti i ragazzini a Cortina sono tutti giù col Bob, con la slitta. Ah, quindi non sei l'unico? No, no, qualcuno ci ha fatto anche male, difatti poi dopo mettevano anche. Oh, ragazzi, a Cortina sono tutti matti, questi ragazzini qua. Beh, è chiaro che se siamo ad esempio Gedo siamo a posto. No, scherzo, dai. Hai mai gareggiato nascondendo qualche infortunio? Fatto, provocato magari in moto o in qualche altro sport? Ah, ma io sto pensando se tu hai studiato, hai letto o hai sentito qualcosa, perché non è che lo sanno in tanti, però in effetti… Beh, adesso se dici la verità lo sapranno tutti, no? E quindi… No, no, ma la verità io sono molto trasparente, insomma. No, ho… Un po' di anni vi hanno girato insieme, già un paio le so io. Nascoste… Senza andare a leggere. Nascoste, diciamo, no, io sono nato per esempio, nascondevo un po' a mio padre il fatto che io correvo in moto, ho corso tre anni in moto quando ero in nazionale di sci, che facevo Coppa del Mondo e mio padre non sapeva niente, io dicevo che andavo via per degli eventi. Ho corso per tre anni in campionato italiano supermotard, quindi mio padre poi è venuto a sapere perché per tre anni di fila, ogni anno mi sono fatto male, una volta ho rotto la radio urna, una altra volta ho rotto la spalla, una altra volta ho rotto il piede e lì venivo a sapere, ho dovuto dirglielo, poi qualche volta ho scritto anche sul giornale. Qualche volta? Sì. E invece, no, per lo sci invece, se ho nascosto, sto pensando, mi è venuto in mente prima però adesso non mi ricordo più. Un'altra cosa, io mi ricordo del Gedo quando Cervigna arrivi con la tua macchina, l'Ulisse avevi, avevi l'Ulisse, con dentro una moto da Enduro credo, avevi vinto la Lignano Sabbia d'Oro insieme a Fattori, sentite questa. No, questa è bella. Parcheggia la macchina, apre il portellone posteriore per tirare fuori le valigie, una coppa che era grande praticamente come sto tavolo, due metri e mezzo di trofeo. E io ero fuori che faceva un po' di ginnastica, allora gli facevano, ma che è questa? Ah, zitto, zitto, abbiamo fatto la Lignano Sabbia d'Oro, io e Fattori, l'abbiamo vinta, ma non dire niente a nessuno, non dire niente a nessuno, va bene, nessuno alla sera, ovviamente mutismo assoluto, in albergo. Aspetta, scusa, l'abbiamo vinta, io ti ho detto l'abbiamo vinta, non posso dire perché se qualcuno ascolta ha vinto la Lignano Sabbia d'Oro, non ho vinto la Lignano, l'ha vinta la sfida, io e Fattori contro Luc Alfang e Alberto Senigallesi. Era coppie, non abbiamo vinto la Lignano perché lì ci sono dei professionisti forti, noi non siamo, abbiamo vinto quella coppia, sì, voglio specificare. Vabbè, morale della favola, si va a cena, una cosa è l'altra, si va a dormire, la mattina arriviamo per colazione, gazzetta, apriamo la gazzetta, a caratteri cubitali, due pagine della Lignano e c'era anche la foto del Ghetto col trofeo insieme a Fattori, ma non diciamo niente di nessuno perché non sa niente di nessuno, questa è stata bellissima. Vabbè, dai. No, vabbè, col motard invece io mi ero fatto male in allenamento, avevo strappato gli addominali molto profondi, alla fine dopo un mese e mezzo sono riuscito a trovare la quadra di cos'era il problema e in allenamento in estate su allo steglio mi hanno operato e sostanzialmente io correvo, quell'anno lì correvo col super motard e mi hanno chiesto di poter fare la gara a Monza, era una gara concomitante con quella del mondiale di super motard, quindi vedevo tutti i grandi campioni e io ero appena venuto fuori, erano passati 15 giorni nel Portugno, mi andavo a stare un mese fermo, avevo strappato, mi hanno cucito dentro molto profondamente gli addominali e ho detto dai vieni, no non posso, sono in cosa, no non posso, no non posso, insomma alla fine mi hanno stuzzicato, ho detto va bene vengo, io sono stato giù con gli addominali ancora mezzi rotti, però non diciamo niente a nessuno e un po' è successo come mia storia che appena hai raccontato, tu non diciamo niente a nessuno cosa, poi alla fine sono stato lì, avevo una voglia matta di tornare sulla moto, ho vinto la gara, mi sono confortato, sono andato anche fortissimo e sul titolo grande della gazzetta non ha scritto dei campioni mondiali di Jambon e di Sil, questi che vincevano tutto, ha scritto Ghedina, ritorna col super motard e vince la gara a Monza in concomitanza col mondiale, mio padre, la federazione, nessuno sapeva dove sapere niente, sull'altra gazzetta. Tuo padre ha cambiato la serratura di casa, tua moglie, tua compagna non ti ha risposto più al telefono e basta, queste sono venite. E vabbè è bello anche così, bisogna farle secondo me per raccontarle, va bene stare sotto una campagna di vetro se si fa uno sport come il nostro perché comunque già è traumatico andarsene anche a cercare, tutti dicono magari anche no, però la voglia da sportivi di andare a cercare uno sport è bello, divertimento prima di tutto, come ho sempre detto per me. Ma ascolta, quindi cambiando discorso, tra campioni del passato, se dovessi scegliere tra Klammer e Müller cosa sceglieresti? No, Klammer, Klammer. Müller è anche Müller è una gran bella persona, è simpatico anche lui, sempre un competitivo, però Klammer è molto più estroverso, aperto, lo conosco forse anche meglio perché l'ho trovato in diversi eventi, feste o comunque organizzato dove invitano diversi ex atleti. Klammer mi piace di più come persona insomma. E mentre tra Zurbrigen e Girardelli e perché? Zurbrigen e Girardelli stimo tutti e due tantissimo, sia Girardelli che Zurbrigen, io però quando ho iniziato a appassionarmi dello sì, per me lo sì, non sapevo neanche chi fossero questi nomi qua da bambino, 10-12 anni, come magari tanti ragazzi hanno gli idoli così, io ho iniziato a conoscere questi nomi a 15-16 anni, quando sono stato l'anno che è morta mia madre, quando sono entrato poi in nazionale così, mi sono appassionato tanto di Zurbrigen, mi piaceva perché aveva questo casco nero e era molto sinuoso, una mentoniera con lo sponsor suo classico che aveva avuto tutti quegli anni e mi ha affascinato lui come compostezza, come pulizia di movimento, però mi affascinava allo stesso tempo anche Girardelli per la sua determinazione, cattiveria, grinta, tenacia, sì per il grande lavoro che ha fatto per ottenere, perché lui anche ha avuto una situazione insomma, lui era con la federazione austriaca, poi lui è austriaco e l'hanno lasciato a casa, aveva un po' suo padre che gli stava dietro e l'hanno praticamente lasciato fuori e lui ha chiesto di poter correre per il Lossemburgo e da lì si è creato, penso che l'Austria si sia mangiata le unghie, poi dopo 5 coppe del mondo generali, è stato un grande, però uno per la tenacia e l'altro per l'eleganza. Certo. Mentre tra Luca Alfano e Herman Meyer, abbiamo già detto prima, però se dovessi scelere tra i due? Anche lì, ecco, Luca Alfano per la simpatia, perché era molto più simile a me, anche come carattere aperto, estroverso, divertente, si godeva anche lui fare le gare, gli piaceva, poi anche se perdeva era contento lo stesso, mentre Herman Meyer magari forse era un po' più chiuso, aveva dentro di sé stesso una voglia di rivalcio, però mi piaceva perché aveva una cativerna determinazione, questo mi piaceva un sacco di Herman Meyer, insomma una grande cattiveria. Adesso te ne dico due, non so se li conosci, però ci provo lo stesso. Tra Blardone e Ghadina? Blardone e Ghadina, dai diciamo sono epoche diverse. Due grandi campioni, via! 10 anni, no, sui 6, 79, 79, 10 anni di differenza. Io ho iniziato a gareggiare la stagione 2000-2001. Comunque devo solo dire Ghadina, io perché devo fare il tipo per me stesso, no? Per Blardone, non posso mica di fare... Già hai preso un centesimo, vieni? Non posso fare il mio amore! Te ne do un altro! Ho detto qualche cazzata! Ascolta, bella questa, volevo prenderlo in castaglio ma non ce l'ho fatta anche stavolta. Ghedo, hai mai fatto sesso prima di una gara? Sì! Così meno sfattiamo tutte quelle dicerie che... Sì, proprio per queste dicerie che ci sono in giro cosa però non cambia niente, è sempre questa roba, dipende, ho provato, ho voluto, anche io sono sempre stato uno molto no, per me è molto ligio al dovere, all'essere regolare con gli orari, con tutto quello che ci va dietro alla vita di un atleta ad alto livello, quindi andare a dormire regolari, svegliarsi presto, questa cosa del sesso, si dicono sì, qualcuno dice che fa bene, qualcuno dice che fa male, una volta che mi sono trovato lì con la mia fidanzata dell'epoca e alla fine i risultati erano, poi non so se ha fatto bene, ha fatto male, erano quelli che avevo in quegli anni là, quindi non è cambiato niente, io pensavo che... E no, anche perché si dice, ogni lasciata è persa, è meglio non perdere, è vero che non perdere, dicono così, esatto, esatto, ascolta, mentre, cambiando argomento, nello sci esiste secondo te il doping? Ma se ne parla tanto, esiste sì, perché alla fine ci sono tanti casi di doping, e anzi il primo caso è stato proprio un mio ex compagno di squadra, il primo caso di doping che è venuto fuori, e anche lì lo so, lo so bene, perché mi hanno chiamato a testimoniare per una dichiarazione che avevo fatto, mi hanno chiamato giù al Cognac a testimoniare di queste richieste che aveva avuto nelle palestre, di gente che vengono lì, che si spaciano come dottori e cose, quindi il doping c'è, ci sono stati dei casi, però, insomma, questo per me è una cosa, io detesto il doping, non sopporto per il fatto che un atleta deve vincere con le sue forze, con le sue potenzialità, e non deve far sì, forse ci sono talmente tanti interessi economici dietro che forse è per questo che è arrivato il doping nel mondo dello sport, però io dico, un atleta deve combattere con le sue forze, con la sua testa, con le sue potenzialità, e cercando di fare il tutto possibile, chiaro che uno non deve lasciare niente a caso, se poi dopo uno è sbadato o cosa, non deve, ma però considerare ogni aspetto, ormai adesso nello sport è fondamentale essere professionista in tutto, e non si può lasciare più niente a caso, però se devi prendere le scorciatoie, devi prendere le medicine per aumentare il tuo potenziale fisico, la tua resistenza, il tuo coso, lì vai incontro a delle scorciatoie che non sono più corrette, reali, giuste, nei confronti degli altri, questo non mi dà fastidio, insomma. Certo, certo, penso che tu sia stato chiarissimo, diciamo così, io condivido a pieno quello che dici tu, perché anche il valore che si dà alla vittoria o alla sconfitta da Pulito non ha prezzo, non ha prezzo e nel tempo, man mano che si va avanti con gli anni, si pensa magari o si rivivono con tifosi, con la famiglia, con gli amici, è quello che è stato il proprio percorso sportivo, raccontarle da Pulito le imprese, è veramente molto gratificante. Io penso, è come dire, fare una gara, vincere una gara dove ci sono uno che è appena venuto fuori dall'infortunio, l'altro che è Zoppo, l'altro che ha avuto, cioè dici vinci, che sono magari i tuoi avversari più austici, i tuoi avversari più difficili, che però quel giorno lì, perché arrivano l'infortunio, sono mezzi ancora zoppati o cose, e lì batti, cioè non sei pienamente soddisfatto della tua vittoria perché sai che lui magari stava male, è bello vincere con i tuoi avversari che sono più forti quando stanno bene, quindi vuol dire che la vittoria te la sei meritata, e io mi sentirei un po' un verme a vincere, che poi può capitare, però col discorso del doping invece c'è uno che vince, ma non sai se ha vinto perché è bravo, per un altro motivo. Il diretto è interessato che magari è consapevole del fatto che potrebbe essere, o che è dopato, perché penso che uno lo sappia se si dopo o no, anche se magari potrebbe essere costretto, però... Sì, quelli che cadono dal pero mi viene un po' da ridere, esatto, lo sa, però io mi sentirei pienamente soddisfatto, sì dico va bene, ho vinto, però non sono stato corretto nei confronti di tutti gli attraversari che penso che siano puliti insomma. Ok Gedo, abbiamo finito con le domande, puoi levarti, questo è il metto, ti dona questo è il metto, però... No, ma mi pensi, la prima domanda era quella che è suonata subito, non so, è la verità, come mi ha detto, ti sento tuo agio? Io ho detto sì, perché a me è pirla, l'ho sempre fatto. Allora siamo in due, qua c'è dentro il filo con la scossa, adesso lo spengo, così almeno siamo a posto. E passiamo all'argomento successivo, andiamo all'argomento delle paure e riflessioni, questo è un altro bello argomento. Riflessione è una bella parola, paure anche. Prima domanda, ti fa più paura la solitudine e il silenzio o il frastuono e la folla? Ma il silenzio sicuramente non mi fa paura, è motivo di pensare, riflettere e sto bene nel silenzio. Mi piace, anche quando ognuno ha bisogno dei suoi tempi, dei suoi spazi, della sua privacy, della tranquillità. Quindi mi ha detto, il silenzio, solitudine e silenzio o frastuono e folla? Forse mi fa più paura a me frastuono e folla. Tant'è vero che anche vivendo a Cortina abbiamo due realtà di vita completamente differenti, perché c'è l'alta stagione, che c'è una massa di gente, tutto aperto, grandi confusioni, tanta gente. E gli ampezzani, quelli come me, è bello sì ogni tanto, però a me piace più la tranquillità. Insomma, gran casino dei folla, guai se non ci fosse, perché è business per tutti, però a me non piace andare in giro, mi piace divertirmi, però se devo andare a fare le mie cose o cosa, mi piace la tranquillità, le cose dove riesco a muovermi velocemente, facilmente. Quindi il frastuono, il gran casino, la folla, ecco, diciamo, mi piace di meno. Ho capito. Sono contento di non aver scommesso con la produzione, perché altrimenti avrei perso. Hai capito? Avrei perso, avrei dato proprio tutto. Mi piace il casino. Gedo dirà che comunque gli piacerà la folla, un po' il casino, calcolando un po' il carattere che ha. Ho detto, sicuro andrà a solitudine o quella cosa lì. Sì. Ma no, forse perché faccio sempre casino. E invece mi frega, questa volta mi hai fregato per l'ennesima volta. Fortuna che non hai scommesso, dai, mettiamola sotto questo aspetto qua. Ascolta, siamo nel 2030, giorno di Natale. Adesso già? Sotto l'albero, sotto l'albero trovi un biglietto di tuo figlio Nathan, che ormai avrà dieci anni. E ci sarà scritto, papà, voglio diventare l'uomo più veloce al mondo. Poi è dura. Cosa gli fai fare? Lo metti sugli sci, lo metti in auto o magari fai in modo di fargli cambiare idea? No, io ho sempre detto e parlo anche con la Patty spesso di questa cosa qua, ma anche mi sono confrontato con tanti atleti, ragazzi, amici che per me, come ci ha insegnato mio padre e mia madre, lo sport è scuola di vita, è importantissimo e quindi per me e mio figlio è importante che faccia sport e faccia tanti sport, che sia la moto, la bici, il calcio, il tennis, lo sci, la pallavolo, il basket, qualsiasi cosa. È importante perché lo sport in scena è la disciplina, che poi ti serve anche la disciplina, le regole, ti serve anche nella vita. Però allo stesso tempo voglio cercare di fargli capire come ha voluto far capire mio padre, soprattutto a me, che è la scuola che ti dà la garanzia, diciamo, di un futuro, quindi lo studio. Ed è importante far capire i tuoi figli che devono studiare. Io, purtroppo, mio padre quando andava a parlare con il professor, tornava a casa a quattro zampe e gli diceva a mia madre, vai tu a parlare perché sennò lo ammazzo. Lui gli è mancato tanto lo studio, io lo studio proprio, non ero uno che disturbava, faceva casino, però non studiava, non mi fregava niente a me. E adesso mi accorgo che insomma mi manca un po', non è mai troppo tardi per imparare e studiare, però in tanti… Sì, con una cultura magari generale, un po' più arricchita, così sì. Però mio padre diceva sì, lo studio ti dà la garanzia di successo, lo sport è un'avventura, ne viene fuori uno su milione per affermarti. E forse anche questa è stata la mia chiave di volta, di poter cercare di confrontarmi o comunque fargli vedere a mio padre che anche io valevo qualcosa, impegnandomi nello sport, cercando di diventare qualcuno, perché con mio padre non potevo mai rispondere, dovevo fare sempre silenzio e lui aveva sempre ragione. E quindi questo mi ha dato ancora più carica, più energia per portare avanti questa che era la mia grande passione, insomma. Ho capito, bene. Mentre da poco sei diventato di nuovo papà, maschio o femmina? Un altro maschio, un altro maschio. Quindi, Alede, hai già creato un chic club? Sì, un po' di amici mi fanno, perché noi, di soprannome, noi come famiglia Ghedina, ci sono tanti ceppi di famiglia Ghedina, per esempio mio nonno e mia nonna, tutti e due Ghedina, però sono di due ceppi differenti. Mio nonno, il soprannome è Brocco e mia nonna, il soprannome è Basilia, tutti e due Ghedina. Però io, chiaramente, ereditando dai genitori del padre, io sono diventato un Brocco. E allora tutti gli amici dicono, è un altro Brocco, certo che questi Brocchi stanno spopolando. Ghedina, Cortina, Brocchi, ce ne sono tanti, un altro maschio, insomma. No, benvenga, siamo contenti. Ascolta, mentre, passando ad un'altra domanda, qual è la paura più grande che hai per i tuoi figli, se ce l'hai? Ma paura, forse, adesso, chissà che cosa, il mondo sta andando avanti talmente veloce che tu, io sono ancora un po' antico, molto lento, la tecnologia, anche ci sono tanti adesso, tanti temi, la sostenibilità, l'inquinamento, io non vorrei mai che un domani, i miei figli, sai, uno ci deve pensare adesso a mettere al mondo dei figli, perché dici, con questa società del giorno d'oggi e con questi problemi che ci sono, chissà che cosa, perché tutti si domandano, cosa, cosa, siamo noi che stiamo anche magari forse andando verso l'esasperazione, no? Tutto sempre più veloce, più frenetico, più, più... Il mondo cambia perché è l'umano che lo cambia, perché si cambia da solo. Esatto, perché è l'umano che lo cambia e questo mi fa un po' paura per i miei figli, speriamo che si capisca anche qual è la chiave di volta per far sì che ci sia una vita migliore. Si dice anche questo detto, si viveva meglio quando si viveva peggio, che in effetti ha un certo fondo di verità questo detto qua, che non è che sempre tutto quello che viene adesso, la tecnologia, per essere più veloci, più smart, è un bene. Tante volte è anche un male e in effetti una volta con quelli che avevano le mucche, le cappe, il fieno, il cosa, facevano da mangiare, tagliavano l'ero, facevano contadini e tutto, era fino a 150 anni fa la vita è andata avanti sempre così, adesso c'è stata un'evoluzione incredibile. Si viveva di più la vita reale, quella vera, quella di tutti i giorni, mentre adesso si sono persi tanti valori grazie a questa evoluzione, a questo evolversi così della società che come hai detto tu forse ha portato un po' il tutto all'estremo e questo io lo vedo più un male che un bene per i nostri figli. Poi loro ovviamente cresceranno in un modo, cioè cresceranno in quest'epoca e pertanto non sapranno nemmeno qual è la differenza rispetto a prima perché non l'hanno mai vissuta come noi, quindi... È vero però devi essere dentro, sei dentro in questo turbine, in questo vortice, se tu non cavalchi l'onda sei tagliato fuori da tutto e quindi sei un estraneo e devi stare un po' nel limite possibile e cercare di stare dentro in questo club, in questa lobby, in questo vortice che si è creato di questa vita che va avanti così veloce. Ascolta, mentre... quando sei sull'isci, sulle tue montagne, su per Cortina, su per la tua Olimpia delle Toffane, pensi qualcosa quando sei lì magari per i fatti tuoi così, cosa che pensi? No. Riesci a distaccarti ancora di più da quello che è questa frenesia, questa vita frenetica e quindi ti isoli da quella situazione, te la godi? Pensi a qualcosa? No, ma come ho detto prima, a me piace anche la calma, la tranquillità, il silenzio ed il silenzio ti fa pensare, sai... e quindi la mente, tutti i tuoi ricordi, tutte le tue cose che hai nella testa vai, spazia dalle cose più bizzarre alle cose più concrete ed è bello anche avere questi momenti perché hai la possibilità di pensare di ragionare sulla vita passata, su quello che stai facendo e su quello che verrà e mi piacciono molto questi momenti. È un uomo profondo, cioè è bello... no, è bello... è bello sentire le tue parole perché, come ho detto prima, rivivi il passato nel tuo silenzio, con le tue montagne e tiri fuori comunque sia un valore, un valore che comunque non viene disturbato da quello che è il cambiamento oggi di questa città, quindi bellissime queste parole. Ma tornando sempre a cortina, discorso Olimpiadi, come siamo messi? No, alla fine le Olimpiadi sono state già segnate da tre, o forse addirittura quasi quattro anni, tre anni comunque e questa è una cosa che tutti i miei concittadini si chiedono e dicono sì, hanno segnato le Olimpiadi già da tre anni fa e a cortina non hanno ancora iniziato a mettere una gru, a muovere un dito, no? In effetti sappiamo benissimo che l'Italia è il paese delle carte, la burocrazia, dei permessi e ci sono grandi problemi. Lo posso anche capire e poi dopo noi siamo anche bravi a arrivare in fretta e fuga. In ritardo. In ritardo, no, a riparare, mettere, arrivare con tutto pronto, tutto finito. Però io mi chiedo anche perché bisogna sempre arrivare all'ultimo per fare tutto di corsa, impiccati, chiedere ad essere sinistra di aiuti per cercare di arrivare pronti al grande evento, no? Quando c'è tutto il tempo, senza perdere tempo nella carta e burocrazia, far sì che si possano fare le cose bene. E comunque cortina, insomma, hanno iniziato adesso a preparare i lavori, speriamo che partano anche quei lavori, sono già partiti anche no, quei lavori della strada, però è tutto partito molto in ritardo. La cosa che mi rincuora è che, manca poco, che anche Milano, ho parlato con un po' di persone, anche Milano dicono sì, c'era l'Olimpiade fra tre anni, però anche Milano sono molto in ritardo, cioè si parla sempre male di cortina, però Milano, che è la città del lavoro... Siamo in alto mare, via, per il momento. Dicono che anche Milano, cioè mi hanno detto, io riferisco quello che... Certo, certo. Mi hanno detto, poi non so, non sono andato a vedere. Noi sappiamo o non sappiamo, ma non è che siamo andati sui cantieri, sempre che ci siano. Sempre che esistano. Bene, siamo arrivati, Gedo, quasi alla conclusione, diciamo così, di questa nostra puntata. Andiamo sulla Amarcord. Adesso andiamo a vedere un pochino, aiutami anche tu a rivivere un pochino quello che sono stati, questi racconti su di te. Da bambino facevi Tarzan sugli alberi, davanti a casa, è vero? Sugli abetti, sugli abetti, sì. Ah, sugli abetti. Io purtroppo, cioè, vivendo, purtroppo, no, per fortuna, viva Cortina, però non avendo le liane, io guardavo, quando ero bambino, guardavo Tarzan e mi affascinava il fatto di lanciarsi con una mano all'altra e prendere una liana e l'altra liana andava avanti così. Non avevo le liane, usavo i rami e andavo su in cima all'albero davanti a casa che era alto 12-14 metri e mi lasciavo calare piccolino, pesavo meno dei miei compagni perché ero 10 cm più basso e avevo provato questa cosa, avevo provato perché ero sempre uno scatenato, sempre tutto l'estremo e mi lasciavo cadere. Quando andavo su in cima la punta si fletteva, mi lasciavo cadere, mi prendevo una rama all'altro e venivo giù in 4-5 secondi dall'albero su in cima. Scusa, ma non ne hai mai pensato? E se si spacca? No, non ne hai pensato perché i rami man mano che scendi si spessiscono, sono più grossi e mi teneva, si flettano e il problema è che se sbagliavo a prendere il ramo arrivavo fino giù e... E via. Ed era andato così. Ed era andato così. Però era bellissimo, mi affascinava. Tutto vero questi racconti. Un'altra domanda. Si leggenda narra che Gianluca Vacchi era più forte di te ma addirittura anche di Alberto Tomo, è vero? È vero, è vero anche questo. Sì, poi dopo è stato scritto, io l'ho detto in un articolo anche sul Corriere della Sera, un giornalista famoso del Corriere e tra le altre cose. Alberto mi ha chiamato e si è un po' infastidito sul fatto che avessi detto che era più forte di Alberto. Che è vero in realtà perché io ho ancora le classifiche degli anni 80 dove Gianluca era la bestia nera che anche per noi dello Schiep Cortina facevamo fatica a batterlo. chi era con scritto su lì del 68 io sono 69 un po' più giovane però anche Alberto che era un po' più vecchio di lui arrivava davanti a grande Alberto ed era veramente forte. Poi lui ha 14-15 anni ha detto basta aveva problemi anche alla schiena e ha smesso lì. Però era ragazzino andava forte forte adesso si è diciamo così dirottato sui social e ha fatto successo uguale. Esatto esatto ha trovato un'altra strada ha trovato un'altra strada un altro percorso. Una vita a 100 diciamo così una media sui 130 all'ora e poi vai a farti male 100 all'ora e vai a farti male a un menisco passando diciamo sotto un tornello in prossimità della seggiovia ma può essere? Sì è vero è vero e difatti questa rottura del menisco è quella che ti ho raccontato prima del fatto che io ho vinto la mia seconda gara di Coppa del Mondo ad ore perché mi hanno operato ho fatto io tra una gara e l'altra di Coppa del Mondo ero andato a fare delle gare per abbassare il mio punteggio non mi ricordo in che specialità sono andato lì e alla fine il tornello i girelli erano ancora chiusi e siccome la partenza dello skilllift era un po' in salita sono arrivato in velocità era mattina presto le 7 mi sono piegato di colpo e piegato mi sono rimasto ci hai spagato il menisco rida perché sembra impossibile era già un menisco abbastanza lavorato perché avevo già avuto un po' di cose si è bloccato mi è entrato nell'articolazione non si distendono più la gamba ho dovuto farmi operare e poi però mi ha portato bene perché ho vinto la mia seconda gara di Coppa del Mondo dopo 13 giorni ho superato il record di Pimitur Breaker diciamo che legato in un infortunio successivamente è arrivato il successo perché poi dopo ancora in Argentina nel 2002 mi sono detto si è rotto tre vertebre poi stai provando il mortale mi sono tirato con la testa ho rotto due vertebre però sapevi già che l'infortunio da lì a poco sarebbe arrivato il successo quindi non te la prendevi nemmeno più di tanto ho perso le prime gare nel 2000 ho perso le prime gare sono rientrato e ho fatto subito ho fatto subito podio dove ha vinto Fattori e io sono arrivato secondo e insomma ho detto vedi che qua io mi devo far male per andare forte però poi dopo invece ho avuto difficoltà con la stagione ho fatto fatica insomma le vertebre non è cosa da poco non è cosa da poco